Carta spesa 2024. Come ottenere 460 euro in più? Il governo sta per rilanciare la carta dedicata a te. Un bonus da 460 euro destinato ai cittadini con ISEE fino a 15.000 euro. Questa iniziativa mira a supportare le famiglie bisognose nell'acquisto di beni di prima necessità. La novità di quest'anno è l'aumento dell'importo a 480 euro per over 65 e genitori di bambini sotto i 3 anni. La card, che si ritira alle poste, richiede una domanda specifica. Nonostante l'entusiasmo, alcuni dettagli, come la modalità di ricarica, attendono chiarimenti ufficiali. La card precedente aveva visto oltre 100.000 beneficiari non riuscire a utilizzarla entro i termini stabiliti, ma recenti aggiornamenti hanno permesso di recuperare il beneficio. Il bonus comprende anche un extra di 77 euro per spese come benzina o trasporto pubblico. Tuttavia, l'accesso al bonus è limitato da criteri precisi, escludendo chi già riceve altri sussidi o non rientra nelle categorie prioritarie. La lista dei prodotti acquistabili è stata definita e include alimenti essenziali, ma esclude categorie come cibi in scatola o farmaci. La card, oltre a offrire un aiuto concreto, stimola anche il commercio locale attraverso convenzioni e sconti. Questo programma riflette l'impegno del governo nell'assistenza sociale, nonostante le sfide operative e le limitazioni che caratterizzano la sua implementazione. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Grazie! 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 Grazie!